gentili telespettatori bentornati sul canale di coppia avventura ciao a tutti allora oggi li abbiamo portato in liguria praticamente una breve storia proprio velocissima bussana vecchia è considerata il paese degli artisti perché nel 1887 e qui mi sono preparata bussana fu colpita un terremoto e praticamente è stata distrutta questa era bussana quindi gli abitanti furono inviati a trasferirsi dove hanno costruito la nuova città e si chiama città di bussana nuova questa è bussana vecchia diciamo alla fine degli anni cinquanta sono iniziati arrivare i primi artisti sia italiani che stranieri e diciamo hanno iniziato a recuperare le rovine di queste case e hanno iniziato ad abitarli e esponendo le loro opere di qualsiasi natura ora noi cerchiamo di capire se ci sono ancora queste persone perché poi oggi ci sono gli eredi di queste persone che sono venute qua negli anni cinquanta comunque ora andiamo a scoprirlo insieme andiamo a scoprirlo insieme grazie a tutti 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 si è meraviglioso quando uno prende e lascia come sarebbe giusto per i libri e quando uno va a letto deve lasciare per fare leggere andiamo questa è la chiesa di sant'egidio diciamo questa è l'unica parte che non è stata restrutturata che è stata lasciata come diciamo questo terremoto l'ha resa e è chiusa perché è pericolante però all'interno se si guarda con attenzione ci sono ancora tutte le immagini, i dipinti, gli stucchi che usavano, tutti ancora originali del tempo che è una meraviglia comunque il permesso l'abbiamo avuto per volare col drone ora bisogna trovare il posto un posto in sicurezza si ma qui ora non so quanta sicurezza ci sia con il drone però il posto è meraviglioso andiamo andiamo e 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 tedi vai in esplorazione ma secondo voi ci si passa? e e e e e e e ci sia passato più a dirsi che a farsi forse siamo veramente diventato di qualcuno di qua di qua e come la nostra frase tranquilli gente che se c'era la possibilità di sbagliare la strada se sbagliato strada anche qui siamo andati a casa della gente andiamo via e comunque ragazzi è un labirinto è più facile perdersi che trovare la strada giusta e 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 chiunque perché te praticamente vai l'importante è che dai una mano a contribuire a come dire no la ristrutturazione però al mantenimento e del paese e quindi cioè sono tutti ben accetti così si narra così in realtà poi quali siano le regole vere delle istituzioni quello non ci interessa prendiamo per buono quello che che ci hanno detto e che ci dicono e chissà forse un domani andremo a vivere lì ci potrebbe anche stare ciao a tutti ciao a tutti